Bentornati sul canale, oggi voglio fare un video, un video haul diciamo molto più cosmetico Allora sono stata da Wicon, era un po' che non andavo anche perché diciamo che è il punto più vicino casa Adesso non c'è più e quindi l'altro giorno mi ritrovavo in una selva oscura No, mi ritrovavo proprio in centro quindi sapevo che lì c'era un punto vendita a Wicon Ho detto dai perché no, voglio andare a curiosare Allora ho comprato da Wicon, ho comprato le nuove salviette struccanti Queste sono quelle bifasiche e mi sto trovando davvero davvero molto molto bene E su queste salviette voglio fare un video a parte Vi dico soltanto che le ho comprate e mi son trovata davvero molto molto bene Anche perché ne ho sentito parlare davvero molto bene anche dalla mia amica Ombretta E mi sono lasciata tentare Però quelle diciamo almeno credo quelle tradizionali Quelle che un po' tutti conosciamo sono terminate Non so se non le fanno più e quindi sono uscite questo formato nuovo Queste sono costate mi sembra 4 euro e qualcosa Comunque farò un video a parte Poi sempre di Wicon ho preso questo nuovo mascara Eyes on volume Questo qua mi sembra sulle 6 euro I prezzi scusate non me li ricordo più Allora questo è proprio da volume L'ho usato nell'ultimo tutorial Quello del trucco strong Vi metto appunto Ve lo metto nelle schede informative O come diciamo schermata finale Mi son trovata molto molto bene Anche nel tutorial si vede l'applicazione L'ho messo anche stamattina Mi avvicino di più Spero che si noti al meglio E mi piace tantissimo la sua applicazione Le scia non sono dure Ecco devo dire che l'applicazione si fa molto molto facilmente Anche quando hai poco tempo a disposizione Devo dire che l'applicazione è davvero subito immediata Molto piacevole Le ciglia appunto si incurvano immediatamente E sembrano assolutamente naturali Ne avevo sentito parlare di questo mascara E me ne sono innamorata Poi sempre di Wicon Ho voluto prendere Questa cipria Questa cipria in polvere Questa è la 02 Natural Prime And fine Ovviamente qua c'è la mia gattina Perché non saluti? Perché non saluti? Fa vedere solo la coda? Eh? Vuoi salutare? Vuoi salutare tutte le mie amichette? Hm? Salutiamo? Non salutiamo Allora Questa cipria mi sta facendo letteralmente impazzire Si fissa Devo dire molto molto bene Questo è il suo basettino All'interno c'è questa spugnetta Che io devo dire Non uso perché mi piace Applicarla con il pennello Quindi qua abbiamo La parte con i buchettini Ne metto un pochettino Qui nel nel coperchietto E poi con un bel pennello Bello grosso Mescolo in questo modo E la passo poi In tutto il viso In maniera molto uniforme Devo dire che l'applicazione È molto 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 piacevole Anche con questa spugnetta Che è già un po' sporchina Possiamo fare un primo step Ecco andando a tamponare Con appunto la spugnetta E poi successivamente Passare il pennello Vedrete che il risultato È davvero davvero Molto molto bello È anche molto profumata Devo dire che Sono rimasta molto molto contenta Ecco Le ciprie comunque in polvere Che siano trasparenti Che siano anche con Un piccolo tono di colore Comunque rendono il trucco Davvero molto più armonioso Secondo me Dai una base Molto più pulita Non c'è Puoi distribuire meglio il prodotto È meno aggressiva Ecco rispetto a Una cipria più compatta Il prodotto si lavora Assolutamente meglio Poi Vabbè di questo ve ne avevo parlato Di questo blush della Debbie Ve lo voglio Nuovamente riproporre In questa haul Perché più lo uso Più Mi piace Parliamo di Debbie Blush Experience Questo è il Peach 01 4,50 euro Penso che andrò a riprendere Poi prossimamente Gli altri colori Poi ho comprato Dalla mia amica Sara Che saluto Ciao Sara Dalla mia amica Sara Fontana Che ha anche lei Una pagina Facebook Ve la linko poi Qui sotto Nell'info box E allora Io ho preso da lei Un illuminante Mac Davvero davvero Molto molto bello A prezzi convenientissimi Andatela a trovare Nella pagina Facebook Questo bellissimo Illuminante Me ne sono innamorata Insomma Questo è il Medium Golden Skin Finish Natural Mineralize Terra maculata Il 905 Molto molto bello Vi faccio vedere Un po' con l'applicazione Che ho messo Un po' stamattina Io praticamente Quando devo mettere L'illuminante Ne metto Un pochettino Ecco Un po' Si vede Un pochettino Qua Bello Anche un po' Sul dorso del naso Sull'arcata Sopraccigliare Potete anche Osare E devo dire Che Il risultato È davvero Molto molto bello Poi Sempre dalla Mia amica Sara Ho preso Questo L'Oreal Voluminose Questo Nero Che Ovviamente Ancora è Da Da provare Non lo conosco Ne avevo sentito Parlare E insomma Credo che il risultato Sia Ottimo Questo è Mascara Extra Volume Senza Grumi Poi Continuiamo Con Mac Ho preso Questo Blush Questo Rosa Barbie Numero 7 Power Blush Spring Sheen Power There Power There Blush Spring Sheen È veramente Un bellissimo Rosa Barbie Come lo chiamo Io Solo che Dalla videocamera Sembra molto più acceso Ma è Leggermente Un po' Più Chiaro Poi Come Si è seduta Qui Come Il rossetto Andiamo su Chanel Questo è Rouge allure Rouge intense Intense Matte Intense Lip color Chanel Ora ve lo faccio Vedere Questo è il suo Packaging Ed è Un rosso Vinaccio Davvero Davvero Molto molto Bello Continuiamo Con I Rossetti Questa Della linea Sempre Mac Gian Battista Valli Questo è Il numero 20 Spiced Apple Allora Questo è Il suo Packaging E Allora Sono Anche Dei rossetti Molto Molto Profumati Questo Qua è Un colore Cioccolato Molto Molto Bello Questo Sa Proprio Di Vaniglia E Spettacolare Bellissimo Indelebile Abbinato A Una Matita Dello Sesso Colore Davvero Molto Molto Bello Vi Faccio Lo Swatch Davvero Bellissimo Questi Sono I colori I colori Che mi Piacciono Tanto Quando Faccio Un trucco Molto Semplice Con Delle Labbra Così Strong Sta Davvero Davvero Molto Molto Bene I prezzi Non ve li dico Sarà Poi Lei A dirveli Se siete Interessati Vi Ripeto Vi Lascio Il link Della Sua Pagina Facebook Qui Sotto Nell'info Box E Questo È tutto Per quanto Riguarda Questo Piccolo Mini All Beauty Appunto Di Makeup Io Sono Sempre Contenta Quando Faccio Questi Piccoli Acquisti Spero Di Avervi Dato Delle Idee Fatemi Sapere Anche Voi Se Conoscevate Questi Prodotti Soprattutto Wicon E Mac Io vi Mando Un grosso Bacio E ci Rivediamo Ai miei Prossimi Video Ciao